Grazie a tutti. Le scommesse nell'Astigiano che avevano accettato giocate da parte di 5 minorenni senza controllare i documenti. I tre rischiano inoltre la chiusura fino a 30 giorni degli esercizi commerciali. Ci sono novità per quanto riguarda il terzo valico di Radimero e Atlarquati Ascrivia. Il consorzio Cocive e i sindacati rassicurano che si stanno rispettando le tempistiche di scavo delle due canne pari e disperi e si proseguirà con il metodo tradizionale. Consegnati oltre 180 regali tra dolci e giocattoli per i piccoli pazienti dell'ospedale infantile di Alessandria da parte di Orlando Cesar che tramite un post su Instagram ha radunato aziende e amici per contribuire all'iniziativa. Un bel ritrovato con la nostra informazione. Come avete sentito è grave il bilancio dell'incidente di questo pomeriggio sulla statale che collega Alessandria ad Acquiterma all'altezza di Borgoratto. Sono morti entrambi i guidatori delle due auto che si sono scontrate. Si tratta di una donna di Cassine di 46 anni e di un uomo di 67 anni di Milano. Un SUV ed un'auto medica della Italian Firm, società di Borghiero in provincia di Milano, si sono scontrate frontalmente in un tratto stradale dove il sorpasso non è consentito. L'urto è stato violento tanto che la parte anteriore delle due auto è quasi completamente accartocciata. Sul posto un'ambulanza della Croce Verde, cura di Castellazzo Soccorso, i vigi del fuoco e la polizia stradale. È stato necessario anche l'aiuto del risoccorso per trasportare le vittime all'ospedale. Uno dei due conducenti è morto sul colpo, l'altro poco dopo l'arrivo dei soccorsi. Sul posto il traffico è bloccato da alcune ore e si sono formate lunghe code. Al vaglio delle forze dell'ordine la demanica dell'incidente, anche se sembra che si sia trattato di un sorpasso azzardato. Scoperte cinque ragazzi minorenni dalla Guardia di Finanza di Asti che effettuavano scommesse su partite di calcio di serie A e tornei internazionali e UEFA in tre centri scommesse nel 2 nel capoluogo E1 a Nizza Monferrato. Quando i finanzieri hanno eseguito le ispezioni hanno sorpreso i cinque mentre avevano tra le mani le ricevute delle giocate appena effettuate. In un'altra circostanza inoltre uno dei gestori del locale non aveva nemmeno controllato il documento di identità di un giovanissimo che si trovava all'interno dell'esercizio pubblico in palese violazione delle normative vigenti. Per i titolari sono scattate sanzioni che partono dai 5 fino ai 20 mila euro. Nelle sale inoltre sono stati installati cosiddette videolotteri o VLT. Oltre alle multe riscono la chiusura dell'attività da un minimo di 10 ad un massimo di 30 giorni. Il futuro delle cantiere del terzo valico di Radimero ad Arquata Scrivia ieri le organizzazioni sindacali si sono incontrate con il consorzio Cocive per avere chiarimenti in merito allo smontaggio delle talpe in località Radimero e avere ulteriori informazioni su come intendono andare avanti nel completamento dello scavo e se fossero riusciti a rispettare le tempistiche dichiarate dal consorzio Cocive che vedrebbero il completamento dello scavo dell'ultimo chilometro e mezzo circa entro il 2026. Il consorzio ha illustrato una situazione che secondo i sindacati è tranquillizzante sia dal punto di vista occupazionale che su quello riguardante il rispetto delle tempistiche di scavo delle due canne pari e dispari spiegando che dopo lo smontaggio della seconda talpa sarebbero andate avanti con il metodo tradizionale. L'opera era ferma da diverse settimane a causa della conformazione geologica delle montagne non prevista dai geologi del Cocive nonostante i molti sondaggi. Le frese delle talpe meccaniche erano rimaste bloccate poiché le rocce sono troppo friabili. Le osse dichiarano di non essere mai state sul piede di guerra con il consorzio ma che i rapporti tra le parti sono cordiali e di rispetto reciproco. I vertici di Amaga e Alessandria hanno annunciato durante l'ultima commissione comunale che entro breve sarà presentato il piano industriale dell'azienda che conterrà le nuove soluzioni studiate per tutti quei servizi che erano inclusi nel progetto Smart City che è stato definitivamente abbandonato. Quindi l'illuminazione pubblica con lampioni a LED, il controllo del traffico e soprattutto i castonetti intelligenti. De De Vinci. Il nuovo rivoluzionario piano industriale dell'Amag sarà presentato entro breve tempo all'approvazione del consiglio d'amministrazione di tutta la holding Amag S.p.a. la società multiservizi più importante del comune di Alessandria. Sarà un piano industriale totalmente rivoluzionato perché come è noto e adesso confermato anche durante l'ultima commissione consigliare comunale dai vertici dell'Amag è stato dato l'addio definitivo al megaprogetto della Smart City scelta obbligata dopo l'intervento dell'autority. Amag nel piano industriale dovrà inserire le nuove strategie, i nuovi piani che andranno a sostituire quello di cui si è parlato per anni e che riguarda una gran parte dei servizi che l'azienda fornisce alla città. Come si farà per esempio per l'illuminazione pubblica con i pali intelligenti. Come si farà per la mobilità e il progetto della gestione dei rifiuti tramite cassonetti smart intelligenti. Per quanto riguarda quest'ultimo argomento, tra l'altro la gestione dei rifiuti di Amag Ambiente sappiamo che prima dovrà essere effettuata la gara per l'appalto del servizio che è previsto dovrebbe partire subito dopo Natale, entro la fine dell'anno. Nel piano industriale di Amag si dovrà reimmaginare l'organizzazione del porta a porta del centro della città e in parte del quartiere Cristo e anche il destino dei nuovi cassonetti dotati di innovative funzioni che avrebbero dovuto sostituire tutti i contenitori stradali. Insomma, anche se è stata messa da parte la smart city di Amag e quindi anche del comune dovranno svelare con il nuovo piano industriale quelli che restano i temi principali per migliorare i servizi tramite una modernizzazione che anche se non si può più chiamare smart city deve necessariamente raggiungere obiettivi simili. Ore di apprensione per il futuro dell'ex Silva ormai in bilico tra rilancio e chiusura ma non ci sono solo brutte notizie che arrivano da Novi Ligure perché un'altra azienda storica, la Pernicotti, per la prima volta propone sul mercato il suo panettone. Che ti procedo? È un Natale dolce amaro per la città di Novi Ligure che da una parte vive la sofferenza per l'ex Silva il cui futuro è sempre più in bilico dopo il rinvio deciso ieri dal governo in attesa degli esiti dell'Assemblea dei Soci in programma per la giornata di domani e dall'altra parte assiste alla continua crescita della Pernigotti ripescata dopo anni bui dal colosso americano JP Morgan che la sta rilanciando sul mercato. Una volontà di crescita testimoniata da quello che l'azienda definisce un banco di prova ossia il lancio per la prima volta nella storia del panettone Pepitas 750 grammi di pura prelibatezza farcito con cioccolato giandui al latte e ricoperto con cioccolato fondente e nocciole intere rigorosamente made in Italy. Entriamo in un mercato molto affollato e che vede la presenza di player con prodotti per tutti i gusti e le tasche ha dichiarato Luigi Leonetti, sales and marketing director di Pernigotti il nostro obiettivo è offrire ai consumatori la stessa esperienza delle nostre famose barri di cioccolato e nocciole Pepitas e proporre uno dei brand che rappresentano per definizione le feste natalizie soprattutto nel centro-sud Italia in categorie diverse ma legate dalla stessa occasione di consumo. Si tratta di un altro regalo per la città di Novi Ligure ha invece commentato il sindaco Rocchino Muliere che dall'altra parte sta seguendo con non poca prensione le sorti dell'ex Silva e una soddisfazione ha detto rivedere sul mercato prodotti a marchio per nigotti e questo ulteriore lavoro dimostra la volontà di rilancio dei nuovi proprietari. Il panettone Pepitas va ad affiancarsi alla vasta gamma di dolciumi che passo passo stanno ritornando sugli scaffali italiani come i classici torroni oggi prodotti in tre versioni e due formati la nuova linea dei torroncini che portano il nome di carubini assenti dal mercato da quattro anni e poi le intramontabili stecche di torroni, le mini e maxi Pepitas e gli intramontabili e storici Gianduiotti, il mast dell'azienda, acquistabili in tre gusti. Il tutto nell'attesa della costruzione del nuovo stabilimento che cittadini e sindaco in testa sperano possa sorgere sempre a Novi Ligure dove tutto nacque nell'ormai lontano 1860. E sono oltre 180 i regali consegnati ai giovani pazienti dell'ospedale infantile di Alessandria da parte di Orlando Cesar, originario di Tortona, che ha raccolto doni tra amici, aziende e conoscenti. Tutto è iniziato circa una settimana fa con una storia su Instagram parlando del progetto a cui hanno risposto Bene S.pia di Tortona, Cantina Tortona, Filottica Tortona e tante altre persone. Alcuni anni fa mio figlio è stato ricoverato al Cesare Arrigo, ha ricordato Orlando Cesare, e ho scoperto un ambiente professionale e attento alle sue e nostre esigenze. Così mi ero ripromesso che un giorno avrei fatto qualcosa e quel giorno è arrivato proprio a pochi giorni dal compleanno di mio figlio, il giorno di Natale. E parlando di Natale, è tutto pronto a Capriata d'Orba, nel Lovadesi, dove il 24 dicembre andrà in scena ormai il tradizionale presepe vivente. Ce ne parla Cattiporcento. Signor Sindaco, siamo veramente agli sgoccioli. Oramai manca pochissimo al Natale e il suo paese si sta vestendo con i colori del presepe. Sì, è tradizione Capriata, quest'anno è il 37esimo presepe vivente, che si tiene la sera di Natale, il 24, dalle ore 21 alle ore 24. Il centro storico si addobba, come si può dire, in una vecchia Betlemme, e partecipa a tutto il paese, non solo il paese, ma anche qualcuno al di fuori del paese, che ha piacere di fare questa rappresentazione. A Capriata d'Orba, dicevamo, è una tradizione, il presepe vivente. Entriamo un pochino più nel dettaglio di questo progetto. Che cosa avverrà? È una manifestazione molto sentita, un po' da tutti gli abitanti del paese, che in un modo o in un altro si mettono a disposizione per collaborare, anche se purtroppo di questi tempi il volontariato si sta sottigliando notevolmente. Il presepe si svolge nella sera della vigilia, dalle 9 a mezzanotte, per le vie del centro storico, dove i residenti mettono a disposizione portici, androni, ingressi di casa, quello che hanno, per allestire varie scenette di vita, come si svolgeva una volta, antichi mestieri, abbiamo le antiche cariche pubbliche, tipo il censore, abbiamo taglialegna, abbiamo le vasaie, le lanaie e quant'altro. Poi in base al numero di persone che hanno voglia di aiutarci, noi allestiamo varie scenette. Il giro finisce poi con la capanna, dove la famiglia dell'ultimo bambino nato, possibilmente maschio, ma a volte anche femmina, se non c'è altro, si mettono a disposizione per rappresentare la Sacra Famiglia, la Natività. E poi c'è ancora un fine giro nel cortile comunale, dove la Proloco offre le specialità locali, le nostre frittelle, il nostro vin brulé. E quindi è una serata, speriamo, di bel tempo e speriamo all'insegna del divertimento per tutti quelli che parteciperanno. E con il Natale non può mancare di certo la musica, protagonisti il corpo bandistico, allievi e docenti della Civica Scuola di Musica Antonio Rebola di Ovada al tradizionale concerto degli Auguri presso il Teatro Comunale Dino Crocco. Nel corso della serata il maestro Gianno Oliviera è stato insignito del premio ovadesi dell'anno 2023. Ci racconta tutto Fabrizio Mattana. La Civica Scuola di Musica Antonio Rebola di Ovada è stata protagonista del tradizionale concerto degli Auguri al Teatro Comunale Dino Crocco, con l'esibizione da prima degli insegnanti della scuola, Elena Becchianello al clarinetto, Davide Nari al sax, Aldo Caramellino al trombone, la giovane allieva Maya Recco al flauto. Poi nella seconda parte un programma prettamente natalizio, con le voci delle allieve Maddalena Carlotta Lantero, Ilaria Piccardi e Silvia Ivaldi. Tutti accompagnati dal corpo bandistico Antonio Rebola, diretto dal maestro Gianni Olivieri, che nel corso della serata ha ricevuto l'ambito riconoscimento vadesi dell'anno 2023. A consegnargli l'ancora d'argento è il direttore del settimanale diocesano Enrico Scarsi, il sindaco di Ovada Paolo Lantero, l'assessore alla cultura Roberta Pareto. Olivieri era stato scelto da un'apposita giuria in quanto direttore da 30 anni della banda. 30 anni di direzione appassionata e competente di tanti musicisti che ha saputo amalgamare e unire nel seno della musica dei suoi valori e del suo messaggio. Si legge nella motivazione, evidenziando notevoli doti di innovatore, svecchiando il tradizionale repertorio per portarlo a brani sicuramente più moderni, e molto piacevoli all'ascolto, per una musica più accattivante e per l'orecchio di tutti. Olivieri percorso con molta emozione tutto il trentennale, partendo dagli esordi, quando ricevette il testimone dal maestro Renato Bellacini su richiesta della loro sindaco Franco Caneva. Poi ha voluto condividere il riconoscimento con tutti i componenti che hanno fatto parte del complesso, nonché con tutto lo staff della scuola di musica. Il premio è giunto alla quarentunesima edizione e nel corso degli anni è stato segnato a tanti personaggi ovadesi che hanno dato lustro alla città e al territorio. Sono scelte di vita ma non solo, doni da mettere sotto l'albero, non regalate cuccioli a Natale, ma optate per le abduzioni, sono spesate e consapevoli nei canili e nei gattili. Alessandra Della Ca. Non fatevi prendere da quelle scene da film dove i protagonisti, magari i bambini, scartano un pacco sotto l'albero di Natale e vi trovano un cucciolo. Un'emozione senza dubbio infinita e una fonte di gioia altrettanto forte, ma attenzione, regalare un animale a Natale, come peraltro nel resto dell'anno, significa impegnare la persona che lo riceve per i prossimi 10-15 anni. Un cucciolo non è un dono qualsiasi, ma una scelta di vita e comprarlo per poi regalarlo a Natale è un azzardo, soprattutto se non si è certi che l'altra persona non sia pronta a riceverlo e a prendersene cura. Quindi attenzione agli acquisti impulsivi, ricordandosi che con l'ingresso di un nuovo membro in famiglia bisognerà essere in grado di garantirgli una vita di salute e di benessere, da cucciolo certo, ma anche da senior. E non è questione di scoraggiare le persone nei buoni intenti, si tratta di essere responsabili, perché, e non è retorica, secondo le statistiche quasi la metà dei cuccioli regalati a Natale finiscono poi per essere abbandonati. L'invito da parte dei volontari che si occupano del benessere dei quattro zampe meno fortunati, ospiti di canili e gattili, è di non regalare animali a Natale, ma di optare per l'adozione. Quest'ultima va sempre ovviamente valutata e voluta con convinzione, ma al tempo stesso ha una duplice valenza, dare una casa ai tanti cani e gatti che vivono nei rifugi e contrastare il business illegale della vendita dei cuccioli. Questi esseri viventi, dispensatori di amore universale e che richiedono attenzioni per tutta la loro esistenza, sono senza dubbio il regalo più bello che si può fare a se stessi e alla propria famiglia. Ma è bene ricordare che una volta cresciuto, abbandonare quello che un tempo è stato un tenero cucciolo è un crimine e come tale è punito dal codice penale. Se poi si ha voglia di fare del bene agli amici a quattro zampe appunto più sfortunati, sono sempre ben accette nei canili e nei gattili, in questo periodo caratterizzato da temperature più rigide, forniture di coperte, trapunte, traversine, maglioni e perché no, confortevoli cucce. Bene, siamo arrivati allo sport. La Bertram Dertona vince in rimonta contro i bosniaci del Ligo Kean e col punteggio di 74-77 si qualifica come seconda del ginore H della Champions League passando il turno all'esordio assoluto in una competizione europea. In Serie C invece la Cuspo Alessandria si è arresa al Novara, ma di tutto questo ve ne parlerà fra poco Fabrizio Mattana con la sua pagina sportiva. Intanto vi ricordo come sempre anche il meteo, le prisioni meteo, oppure il 3bmeteo.com e visto che ancora un minuto per stare con voi vi ricordo ancora come sempre il nostro numero WhatsApp 348 662 7590 dove potrete inviarci foto, video anche su notizie di cronaca, incidenti stradali, fatti climatici, insomma tutto quello che volete, anche spettacolo, musica, concerti, insomma tutto quello che volete appunto potete inviarla a questo numero, noi verificheremo la notizia e la pubblicheremo sul nostro sito internet, le siti news24.it che vi invito a consultare per tutti gli aggiornamenti sulla provincia dell'Alessandria ma su tutto il Piemonte e anche su tutta la Liguria. Naturalmente vi ricordo ancora che come lo fa vedere l'immagine se riuscite a fare le foto e i video in maniera unizzontale è meglio e potete anche perché no citarvi nella notizia con il vostro nome e cognome ma lo sottolineiamo non è obbligatorio. Bene, quindi 348 662 7590 per contattarci. Bene, la nostra edizione finisce qui, io vi ringrazio come sempre di essere stati con noi e ci vediamo appunto alle prossime edizioni. Buone feste e buona serata. Arrivederci.